Oggi parliamo di focacce salate, parliamo di panettone salato. Sapete chi ha inventato il panettone salato? E sapete perché è stato inventato il panettone salato? Ve lo mando per gradi. Intanto che cos'è? Non è nient'altro che un panettone, doppia lievitazione, solo lievito naturale, ma c'è stata fatta un po' di modifica. Dove ho lavorato? Ho lavorato sui caratterizzanti, e quindi nel panettone sono l'arancia, il cedro, l'uva sultanina, togli, il caratterizzante aromatico, la vaniglia, togli, gli aromi aggiunti da agrume, arance e limone grattugiato, togli, e togli anche un po' di zucchero. A sto punto che ho fatto? Ho messo dentro un po' d'olio extravergine, ho lavorato sulle cariche aromatiche, quindi utilizzando il pepe, usando l'origano di pantelleria, usando del peperoncino, e poi ho lavorato sui caratterizzanti, quindi gli ingredienti che caratterizzano il panettone. E ho realizzato per primo il pere parmigiano, la focaccia del contadino. Questa nasce da una nottataccia che è B, in cui, mentre stavo ragionando su che cosa volessi fare di nuovo, come novità della mia vita da grande, stavo al tavolo nottetempo solo, e c'avevo parmigiano, pere fresche e un pezzo di pane. Non racconto una poesia, io non la racconto mai, racconto solo la verità, me lo sono dato come obbligo un po' di tempo fa. Vi invito a fare una prova, assaggiate un pezzetto di pane, un pezzetto dell'ottimo parmigiano e un pezzetto di pera fresca. Voi farete una degustazione circolatoria e la cosa più complicata sarà decidere con cosa terminare, perché se rimanete con la pera vi viene voglia di parmigiano e dopo il parmigiano vi viene voglia di pane, ma la pane ve stimola la pera, è un circolo vizioso, c'ha una controindicazione. Eccola la controindicazione, se dovrebbe notare, la panza. Per il resto è solo piacere. Ragazzi scusate, mi ero dimenticato, sapete chi l'ha inventato il panettone salato? Attilio Serbi, sette anni fa.